Sto andando il video! Dite qualcosa di interessante Come si fa... Beppe saluta la telecamera Nooo! Di sottofondo ci sono... Di sottofondo ci sono... Vediamo Filippo che avanza Avanza, avanza Continua ad avanzare Saluto la telecamera Saluto la telecamera Ciao! Ciao! Ancora sta andando? Sta andando, sta andando... Ma fai schifo? Diciamo dove siamo TRL, Reggio Calabria, quello è il palco Vediamo se riusciamo a farlo vedere Ma che parte domani? Vuoi fare questo gioco al telefonino? Cos'è? Beppe propone essere il gioco del telefonino Vai con il gioco del telefonino Vai con il gioco del telefonino Quello è il palco di TRL Si si vede, vediamo Dove si stanno esibendo i lost Quello è Filippo Che non c'entra niente Vabbè ma manco noi c'entremo niente Filippo è il massimo E Gianluca è un tizio che non conosco Ma stai facendo il video? Si sto facendo il video Ma chi ha? Tra l'altro sono entrati dei ragazzi che non sappiamo che sanno Si sono messi un cambio di post Chi sarà? Andiamo ancora qui Filippo dici ciao alla telecamera Oh yeah Ecco un tizio che non si capisce chi sia Ok facciamo iniziamo a fare foto Come si serve? Noi ragazzi